ciao a tutti ragazzi siamo in questo nuovo video di lontub e andremo a fare la missione di usare come si chiamano vabbè a quelle specie di plan all'insù andiamo a leggere la missione il prelevatore questa usa un elevatore al circuito cocker o alla caverna di comando noi siamo è alla caverna allora è in tutti e due i posti si allora spero ecco dov'era qualcuno eccolo tutto lo so appunto scendere quindi ragazzi eccolo qua analizzeremo questo ci buttiamo ecco fatto prendiamo quest'arma e lo usiamo siamo già uno adesso provo la nostra roba no vabbè lasciamo usiamo la roba che volevo usare quella cosa che si spara ma no 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 ragazzi 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 se ci arriviamo ma non vogliamo ci raccomandiamo un veicolo e proviamo ad andarci ma non so dove ma non so dove la la che si chiama quella roba non lo dimentico non lo dimentico e le elevatore di di codica camp vabbè di ciò e le vado vabbè e le livelli dell'altra città c'è vabbè ah si con i ragazzi possono usare anche quelle del dirigibile trovano c'è un caro armato stanno ballando aspetta 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 l'amore la strada mamma ma circuito cocker non c'è eh ah al circuito cocker non c'è il diridente quindi qua lo siamo no questa alla o al circuito cocker eccolo regà forse è questo andiamo no non è questo no ma il diritto ha il circuito cocker no ha roba di comando e una circuito cocker no forse ah ecco guardiamo questo forse questo è il circuito no 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 anche quello ecco deve essere questo per forza perché siamo il circuito cocker e si ragazzi era questo quello che si usa usando il percorso facendo il percorso e si trova e comunque ricordate di iscrivervi al cavallo attivando la campinella e condividere i video con i vostri amici ciao ciao